Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e nel contest di oggi andremo a regalare MotoGP 2017 Questo gioco ragazzi è stato offerto dal mio sponsor Che ovviamente mi ha chiesto di aprire il gioco per controllare l'integrità del gioco Vi posso garantire che questo gioco è nuovo come state vedendo Lo sto aprendo io comunque il gioco ragazzi E voglio vedere giustamente se funziona Anche perché mi è stato chiesto di controllare il perfetto funzionamento del gioco Allora andrò ad installare questo gioco Ha proprio una breve installazione Non farò un'installazione completa Giusto per vedere e per farvi vedere il gioco ragazzi Allora lo sponsor Play Giochi Editor Che è lo sponsor ufficiale del mio canale ragazzi Si è offerto di regalare questo gioco a voi iscritti al canale Per mezzo di un contest Quindi io andrò a regalare questo gioco Allora per trovare tutti i contatti di Play Giochi Editor ragazzi Basterà aprire una qualunque descrizione dei miei video E troverete tutti i contatti di Play Giochi Editor Mail comprese Per contattare Play Giochi Editor potete andare anche su Facebook E potete contattarlo o via mail o tramite Google più ragazzi Allora vi voglio dare una dritta ragazzi Vi voglio essere generoso anch'io Se andate da Play Giochi Editor per comprare un prodotto Per comprare un gioco Visto che in questo periodo ci sono giochi che stanno per uscire E sono anche molto molto belli ragazzi Tipo per esempio fra qualche giorno esce Need for Speed Payback Che a mio avviso sembra un bel gioco Voi potrete ricevere un ulteriore sconto ragazzi Dovete semplicemente quando contattate Play Giochi Editor Dovete prendere e scrivere hashtag MaxiMilkYouTube ragazzi E riceverete uno sconto Ovviamente scrivetelo prima dell'ordine che state facendo E riceverete uno sconto ragazzi Mi raccomando non dimenticate questo hashtag Perché altrimenti non verrete trattati come un trattamento di favore Questa è la pagina di Play Giochi Editor Seguitelo anche su Google E per restare informati su tutto ciò che comunque pubblica Play Giochi Editor O comunque fa Play Giochi Editor ragazzi Però la gran parte delle cose ci penserò io Ad informarvi di tutto quanto quello che sarà Play Giochi Editor Che farà dei nuovi giochi e di altro ancora ragazzi Quindi qui ci troviamo nella mia Playstation E stiamo installando MotoGP 17 ragazzi Come vedete ho fatto solo l'installazione essenziale Anche perché non ho intenzione di installare tutto il gioco E andiamo a vedere questo gioco ragazzi L'ho installato proprio per farlo vedere a voi Come non è insomma questo gioco ragazzi Quindi avete letto all'inizio del video ragazzi I requisiti per partecipare a questo contest Per poter ricevere a casa vostra questo MotoGP 2017 Allora ragazzi Primo requisito essere iscritti al canale Secondo requisito lasciare like e condividere questo video ragazzi Terzo requisito scrivere hashtag partecipo sotto questo video In maniera tale che io farò l'estrazione E magari sarete voi i fortunati vincitori Non si sa Detto questo ragazzi Un'ultima cosa vi voglio dire Dovete avere il vostro canale pubblico ragazzi Pubblico cosa significa? Significa che io devo poter vedere le vostre iscrizioni E i vostri video piaciuti Quindi devono essere pubbliche La vostra lista di video piaciuti deve essere pubblica E le vostre iscrizioni devono essere pubbliche In maniera tale che quando io farò l'estrazione Andrò sul vostro canale E se sarete iscritti e avrete condiviso il video Lasciando un like al mio video Sarete voi i vincitori di questo contest Altrimenti se avrete lasciato solamente partecipo E io andrò sul vostro canale Magari uscite voi E io esco Vado sul vostro canale E vedo che non c'è O l'iscrizione al canale O non c'è il video piaciuto Oppure c'è solo uno e non c'è l'altro Io automaticamente vi scarterò ragazzi Dovete avere tutti quanti i requisiti in ordine Per partecipare a questo contest ragazzi Io stesso mi impegnerò a spedirvi a casa questo gioco Senza spese aggiuntive Non dovrete spendere nulla ragazzi Ve lo spedirò gratuitamente a casa questo gioco Al vincitore che uscirà insomma Ricordate ragazzi che questo gioco E' stato gentilmente offerto da Play Jockey Editor Che è lo sponsor ufficiale del mio canale Per qualunque necessità Abbiate nel campo informatico Nel campo di gaming Vi serve un pad Vi serve una sedia gaming Vi serve qualunque cosa vi serva Contattate Play Jockey Editor ragazzi Andateci a mio nome Riceverete uno sconto aggiuntivo Per tutti i vostri acquisti ragazzi Ha dei prezzi buonissimi In seguito porterò un catalogo Vi farò vedere molto di più Per quanto riguarda Play Jockey Editor Quindi state tranquilli Intanto ragazzi vi lascio Con questo contest Il risultato di questo contest Scusate sto dislessico ragazzi Andrà a terminare O meglio l'estrazione di questo contest Ci sarà una settimana esatta da oggi Quindi oggi è mercoledì ragazzi Martedì prossimo io estrarò Il fortunato vincitore Di questo gioco Forse ragazzi ci saranno altri giochi Dipende dalla vostra partecipazione Dipende tutto da quanto siete presenti sul canale E tutto il resto ragazzi Forse come ho detto Ci saranno altri contest Magari per quanto riguarda GTA Sicuramente Però magari ci potranno anche essere Altri contest di questo tipo ragazzi Che andrò a regalare giochi E tutto il resto Questo dipende sempre dal mio sponsor Ragazzi Come ho già detto Ringrazio Play Jockey Editor Per la sua collaborazione ragazzi E per qualunque cosa Contattatelo Per qualunque acquisto Che voi vogliate fare Ricordatevi ragazzi Per avere un trattamento di favore Da parte di Play Jockey Editor Andate E mettete Prima del vostro ordine Hashtag Maxi Milk YouTube In maniera tale Che Play Jockey Editor Capisca che siete I miei iscritti ragazzi E vi farà Uno sconticino Su qualunque cosa Voi stiate comprando Io non so Di cosa avete esigenza voi Però Da lui potete trovare Tutto quello che cercate Ragazzi Mi raccomando Serietà in ciò che fate Detto questo Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti